E ragazzi, come va? Io sono Feri, Niki E io sono Stefano, che stai G-Cama G-Mod E oggi siamo qui con una nuovissima modalità appena uscita E in pratica sarebbe Venerdì 13, trasferito su G-Mod Esattamente, però dire così È quasi dire poco È riduttivo Perché, allora, a differenza di Venerdì 13 Qui abbiamo diversi mostri per ogni mappa Cioè ci sono una cosa come 6 mappe Ci sono E 6 mostri diversi Tutti i personaggi più famosi di tutti Esatto Esattamente E in ogni mappa avremo degli obiettivi da fare Per cercare di sopravvivere Mentre l'assassino avrà delle abilità completamente diverse Per cercare le persone che cercano appunto di sopravvivere E ammazzarle Quindi è davvero davvero fatta bene La giochiamo insieme ad Espy Jockey e a Luca E speriamo che vi piacerà tanto Perché nel caso la riportiamo più che volentieri Ciao Espy Ma salve Ma sei tu? Proprio tu? Sì, la coincidenza è che sei una signorina, guarda Ah, ma perché io sono lontana da voi invece? E non lo so fare, sei sola soletta Dobbiamo trovarla assolutamente E io sono molto vicino Davvero, Luca? Non so nessuna parte, Luca Vi informo che io ho già trovato una tanica di benzina Quindi ne manca solo una Ottimo, ottimo Espy, guarda la casa di sinistra e guarda quella di destra Ok, d'accordo Esploriamo, vediamo se riusciamo a trovare qualche arma, qualcosa di importante Vi ho visto, vi ho visto Davvero, Fere? Sì, sono nella casa a fianco a voi Siamo vicini Siamo vicini Quanto pensavamo di essere No, siamo vicini Vi serve il generatore Il generatore dovrebbe essere in tutti i villaggetti qua È soltanto uno, però è quello giusto Quindi dobbiamo cercarlo Oh cavolo, oh cavolo Ragazzi Fere Sto arrivando qualcuno Stai buono, Luca Mi faccio una cavia Trovate Il generatore Dire di sì Dove siete? Oh cavolo, è dietro Non lo so Questo è un generatore? No, no No, penso che sia semplicemente un faro Ok Ho trovato una jerry cane Che bello Madonna Ma sono in sconto ormai Eh, può essere È dietro Correte, scappate, scappate L'ho visto per un secondo Dove vado Le vostre impronte No, mi sta seguendo No Ce l'ha con me Ce l'ha con me Allora correte in modo strano Così lo confondete Ma se ce l'ho dietro Che cosa confondo qua? Confondilo Io mi sono messo al buio Al buio? Non lo sa Secondo te non ti trova Stef al buio Non può venire qualcuno a salvarmi Stef dietro di te Non è vero Non c'è nessuno dietro di me Ho di nuovo lo spinto Ho il personaggio che corre più del gioco per fortuna Corro, corro, corro No, no, anche me No, 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 no Espi separiamoci Separiamoci Ho tutta la stamina No, no, non separiamoci Sì Basta Non lo voglio più avere dietro Non lo voglio più avere dietro Non lo voglio più avere Espi No, mai Prendi un po' di coraggio Salta Continua a seguirmi che sto disgraziato No, dai Non lo provo Salta dietro Ma hai trovato qualche generatore Provate ad andare nella zona degli indiani E della spiaggia Io sto provando ad andare qua A questa zona non penso di aver Sì, indiani e spiaggia Espi Secondo me è lì il generatore Perché è l'unica zona che ancora non abbiamo visto Ma io non so dove si va lì Infatti abbiamo bisogno di un cartello Se dovrebbero trovare in giro Fereniki, Fereniki Torno a doveri prima Torno a doveri prima Anch'io ho trovato un cartello Ok, vabbè Andiamo dai Espi Andiamo verso il campo degli indiani Dai ragazzi Spero in voi Vedi Ehi No Allora io scappo verso il cartello Colpiscilo Scappa Vai via Vai via Ti prendo a schiaffi Ma aspetta E se lo colpiamo con le torce E lo sto provando a colpire con le torce Ma voi state picchiando Io Fermo No Prego Espi scappa Espi scappa Sto scappando Bene Bene Io sono nascosto che mi cerco il posto Cosa devo fare Espi corri Ti sto stavando Corri È l'unica cosa che posso fare Però Uh Forse la trovo Mi hai trovato un generatore Su Non lo so fare Un generatore Foresta Per favore dove sei? E io sono nascosto Così almeno sto tranquillo E questo Ma sei un criminale Ma mi lasci L'ho trovato L'ho trovato L'ho trovato L'ho trovato Sì 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 Opla Bravi 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 Bisogna trovare la radio Ci serve la radio Eh la radio non l'ho proprio vista Eh l'ha appena trovata Espi Vai bravo 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 Oh dovevi vedere la scena è entrata in una casa La prima che ha visto La polizia Espi arriva tra un minuto e trenta Eh ma dove? Eh La spiaggia forse Credo di sì Espi Però se vai adesso alla spiaggia Lui va lì e ti prende Quindi per ora sei nascosto È già dietro di me Stef Brutta notizia Ok Ok bene 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 Io mi sono nascosto Espi Mamma mia Via 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 Cosa sta succedendo? È molto assurdo vedere il gioco di Espi Io ve lo dico eh Allora La spiaggia da questa parte Segui Segui Così cartelli Espi Forza 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 Quando è che arriva la co Oddio Dov'è la barca? Ma dov'è la polizia? Polizia Non è lì? Allora Espi è incastrato nel molo Nel senso che sul molo Ha detto che ci venivano a prendere in barca Ma hanno mentito Cioè non sono venuti nella spiaggia? No Espi non ha il personaggio Che vede dove sono Espi Esatto Esatto Quindi sono dall'altra parte La mappa Come dall'altra parte E non lo so Non so dirvelo Io sono al campo degli indiani Cioè ma è in un'altra spiaggia Espi Cosa pensi? Cosa? Che è in un'altra spiaggia? Perché abbiamo soltanto Un minuto e quindici Altrimenti qua Si lasciano Per sempre nel campo Provo a leggere questo cartello Ti dico Ok Allora sembra essere Verso Verso le cabine Range E corri Espi Corri Cerca di fararti almeno tu Corri È un casino Non so esattamente dove arriveranno Tu corri verso di lì S'hanno mentito Sti polizioni Lo so Sono inutili Io provo a raggiungerti in qualche modo Tu vai lì Fregatene di me E cerca di sopravvivere Ho qualcuno dietro Stai raggiungi Ora tocca a Stef L'altro mondo raggiunge Ma dai Stavo cercando anche di nascondere le mie tracce Mi ha trovato lo stesso Vabbè continua a correre in qualche modo Scappa scappa Stef Io vedo la polizia Come? Aspetta anche Espi la vede Espi davanti a te Davanti a te Eccola 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 Stef Vai Scappa Stef Bravi Scappati Mamma mia Bravi 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 Uguale identico a Friday Uguale identico C'è proprio la nibbiettina Bellissimo Ah che figata Ok Io sono morta Ricorderemo per sempre a Fer Sperando che non diventi lei cattivo Allora io ho permesso a Espi di scappare L'ho guidato bene E sono riuscita a farlo vincere Per essere sacrificata per Espi Sì esatto Si è stata abbastanza inutile No sono molto orgogliosa Meno male Meno male che tu sei orgogliosa Espi è l'assassino E io ho una notizia per Espi Oh cavolo Jerry Kane è numero uno Grazie Ma no l'hai già trovata Sì Qui non c'è nulla Gente non provate a scappare Sì 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 Oh c'ho troppo pesante Senti lo lì E' arrivato quello pro Espi non mi uccidere Ricorda che io ti aiuto sempre Non è vero Fede Non è vero Non è vero È verissimo Espi prova a pensare cosa succede Ops Secondo Jerry Kane Ops Ma come? Di già Come secondo Jerry Kane? Già Allora Cos'è dovevo trovare il generatore? Generatore Allora Allora Io ho il personaggio che vede al buio ragazzi Quindi vedo qualsiasi cosa Cos'è un gatto È più o meno Steph Catwoman L'abbiamo scoperto Allora Io vedo la coda Steph Non è vero Non vedi nulla Non mi vedi Non è vero Non sono le mie Sono che le volte No 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 Ero io Ero io Pensavo se si seguendo Steph mi ha fatto scendere un colpo Vieni qua Vieni qua Non mi prendi Scappa se il coraggio Espi scappa tu Basta Io l'ho combatto Io gli do un colpo in faccia di torcia Mi ha già dato un colpo E mi sta facendo arrabbiare Io l'ho combatto E lo so non riesco a correre Sono stanca E' quello il problema Dove è finito? Non lo so Non ho idea Però Sei vivo? Ho una brutta notizia per lui Cosa? Credo di essere arrivato al generatore Dove sei finita? Ferinichi? Espi? Dove sei? Sono scappata Che fine avevi fatto? Espi? Sei chi ha attivato il generatore? Chi? Io ho attivato il generatore Espi? Espi? Sai chi ha attivato anche la radio? Ferinichi? Mi spiace Hanno fatto troppi progressi Tu devi andare Devi andare giù Non perché ce l'avete sempre con me Non può accorre Io ve lo dico Se capito a stasino Vi faccio tutti fuori In zero secondi Non avrò pietà Ve lo dico Ve lo dico già da adesso Preparatemi Dove siete? Dove siete? Steph Steph dove sei? Mi serve una mano Allora io sono in uno dei villaggi Se vuoi te la do io una mano Però non so che mano ti posso dare L'unica cosa che so fare È guardare nel buio Luca Non sono molto utile Allora Luca è un villaggetto Allora Luca è al campo di indiani Tu dove sei? Eh io no Io sono un pochettino più lontano Rispetto al campo Agli indiani Agli indiani Perché gli hai detto Dov'è Luca? Ecco Come fate a rincontrarvi? E lo so fare Ma così ci va Espi Per un minuto ancora Non c'è la polizia Espi che non lo trova Al campo dell'India Vabbè Si perde Espi Io sono agli indiani Tu dove sei Lucchino? Ah eh Gli indiani Ci sono andato via Ma non vedo più le tracce Dannazioni Perché siamo lontani caro Per quello non vedi tracce Ovviamente poi non ho detto Che è andato via Non lo so Allora Cinque secondi Luca Devi dirmi dov'è Perché Dobbiamo correre Dobbiamo correre Appena lo sappiamo Dov'è Luca? Vero che sia qua vicino Dov'è? Vediamo È alla spiaggia È alla spiaggia Corri 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 Ma ci ammazza Davvero è alla spiaggia Lo sa anche Espi così Bisogna usare delle parole in codice Che conosciamo solo Noi inizio game Capito? Così l'assassino non sarà Ragazzi Oppure mi state trollando Ah beh Luca potrebbe trollarlo in effetti Quella sarebbe una tattica davvero fenomenale Ma però faccio a dirlo a te Aspetta Tu dovresti capire La trollata sarebbe troppo difficile Eh non lo so Perché comunque possiamo Diciamo capirci E a vicenda E diciamo che io sono già scappato Sono nella barca da cinque minuti Ma non volevo dire Ok Corri Corri Luca Correndo Corri 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 Luca Aspetta vedo delle impronte Sai come si attiva la barca? Eh la barca si attiva da sola Ci portano via quando Sì Quando arriva anche Luca Per un minuto e trenta Siamo qua Luca Beh sì E quindi se Espi arriva Vi fa fuori Ci fa fuori Ma guarda io sono già qua la barca Sì lo so però Sì lo so però Salire Eh ok ma Espi che fino a fatto è tutto ciò Sono arrivando Non si è più rivisto Non si è più rivisto Luca mi vedi Un giorno No È arrivato Eccolo Entra entra Luca Entra No Ma dai Quindi se entrate tutte e due Finisce C'era Espi correndo al molo L'avete visto Allora Quando mi stavate chiedendo tutto il tempo Dove ero Io ero nascosto in mezzo ai cipulli Davanti a quella barca Sperando che sponassi lì la barca Però non lo potevo dire E tac E' comparsa lì Fanciulli Ma perché non sono capitata io Stef Non ti mangi i fanciulli Ci vuoi uccidere tutti No Stef Non mi uccidere E spichi Uccidere No non mi piace uccidere No devo fare una richiesta a Stef Aspettate Ok allora Ferre vuole farmi una richiesta Fammi giocare un pochettino Che sono stata sfigata Ti prego Va bene Ferre va bene Va bene Tanto io ho una tattica diversa Dalla vostra Quindi diciamo che ci vediamo dopo Va bene Va bene Ok d'accordo D'accordo Praticamente io Vuoi aspettare alla fine magari Che poteri hai Luca? Vedere dove siete Però non so Chi è l'assassino E chi siete voi Oh cavolo Quindi potenzialmente Puoi andare in faccia All'assassino Luca Quindi puoi vedere anche a me Chi è? Chi è? Espy? Io sono io Ciao Ciao Espy Ok controlliamo le case Espy che dobbiamo trovare I genitori Ok tu è questa a sinistra Io a destra Ok vai Allora Se Steph ha studiato bene oggi Dovrebbe aver scoperto una cosa Ovvero che il generatore è sempre lo stesso E se il generatore è sempre lo stesso No 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 Diciamo che Secondo me non è sempre lo stesso scusami eh Dici? Secondo me cambia Non lo so Non lo so Non lo so sicura Però secondo me cambia Potrebbe potrebbe Non lo so Quanti generi che ne avete trovato? Solo uno? Uno Una Un po' lenti Un po' lenti ragazzi Però noi li abbiamo prendi Potete impegnarvi di più sinceramente Ah ok Tu che case hai cercato? Mi hai visto? Sì ti ho visto da lontanissimo Davvero? Sì Davvero Sto scappando Steph è fallito nell'essere un assassino tranquillo Sì Gli hai fatto spaventare Ti ho visto da lontanissimo No no Ferre mi sta provocando Ma io ce l'ho visto Ti sta provocando No no Ferre mi ha provocato Cosa ho fatto? Mi ha chiesto Prima mi chiede risparmiami Poi mi provo Facendo Oh che ho visto Adesso io vado dritto E le spacco la faccia Io non l'ho fatta No Dove sono le sue impronta? Fede Impronta Impronte Ne ho una Sì Ma perché è solo una gamba Allora Luca hai trovato qualche jerrycan extra? No Non sono io Steph No Vai via Luca Aiuto Avevi il potere di vedere tutti? Raccontami il tuo potere adesso Ma dai Ma perché hai dovuto uccidere Luca? Beh perché qualcosa si fa sul serio Sì sì Siete Dicevo che adesso siete in due a cercare le jerrycan Ok Abbiamo Cioè una sfortuna Io forse ho trovato Che è un qualcosa di indicibile oggi In questo villaggio Non ci sono E li hanno già L'ho trovata È trovata Generatore Ora manca il generatore Ma qual è il generatore? Ma smettila Ma ti ha capito Dai zitto Espi che mi mettiamo in secava Buongiorno Dai Chi è? Colpi Do colpi Chi è? Fere? O è Espi Chi è questa qua? No Io no Sono tranquillo Ti combatto Ti combatto Non ho paura Addio Ma dai Stavo cercando il generatore Non l'ho visto Nemmeno ho letto impronta Perché tu avevi La classe Che nasconde le abilità Quindi non ti vedevo Però avevi la torcia ceda E beh certo Stavo cercando il generatore La stavo accendendo e spegnendomi Ma il generatore sta vicino alla spiaggia Devi superare gli indiani Non lo sapevo Non è studiata abbastanza E lo so Non la conosco Comunque Ero stato solo Espi Allora sono arrivato in montagna Sento la brezza delle alpi Espi non lo so Dai Espi ma sappiamo che sei in spiaggia Fatti un castello di sabbia Non è in spiaggia Davvero? Sì non è in spiaggia Ma perché non è in spiaggia? Non cercare di guardare il mio schermo Che io sto guardando Espi Ma deve andare a fare il generatore Ma non lo so cosa sta facendo Che ti devo dire? Ma non lo so nemmeno io Come ti ha perso? Sono restato arrostando i marshmallow Con gli alpini qui Dovresti trovare un cartello E cercare di orientarti Espi corri che ce l'hai di fronte Espi corri Mi avete visto Dannazione Non l'ho visto da lontano Scappa Espi Ciao Espi Eh ci sto provando Espi ci sto provando Allora dimmi il tuo ultimo desiderio Espi Voglio andare a mangiare la carne degli indiani No Espi dovevi dire Il buffalo degli indiani Ok Voglio ascoltare una canzone Nella radio Dovevi dire quello No 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 Lui vuole mangiare la carne degli indiani Qui al falò Ok Inizia a cucinarla Espi Aspetta aspetta che Devo prepararmi A far cucinare Va bene va bene vai Eh no aspetta mi sono incastrato Lasciami in pace Assassino Sei molto emozionato Lo so Lo so Ok prepara la tua bella bistecca Eccola bistecca L'ho detto di dargli un colpo di torcia in faccia Che soddisfazione Che soddisfazione Per essere la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdere gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao